A Padova gli uomini della Questura hanno identificato un 34enne italiano senza fissa dimora di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. L'uomo è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi di Galleria Borromeo in centro città con l'oscurità della notte. È stato portato negli uffici della Questura, foto segnalato e denunciato per furto aggravato e ricettazione. Nei suoi confronti è stato predisposto anche il foglio di via dalla città. È accusato di aver scassinato due distributori automatici e di aver commesso molti altri furti in tutto il nord Italia, ma gli investigatori della squadra mobile di Padova stanno cercando di capire se sia coinvolto anche nelle spaccate allo storico Caffè Pedrocchi e in altri locali del centro. Il 34enne è indagato anche per il furto del 4 luglio a un supermercato e la ricettazione di un furgone a Monterenzio in provincia di Bologna. È stato identificato nel corso del potenziamento dei controlli sul territorio predisposti dal Questore dopo l'escalation di furti e delle spaccate avvenuti nelle ultime settimane.